In effetti lei parla in modo molto corretto. Oh, io parlavo meglio. Io ho studiato letteratura all'università. Ah sì, storia della letteratura? Sì. Ah. E quale periodo? No, no, il romanticismo è troppo scontato. No, è interessante se dici di aver studiato la poesia del Novecento, perché con la poesia puoi citare dei versi. Ah sì? Ti preparo un florileggio. Un cosa? Scherzavo. Paul Elward, lo conosce? No, ma sembra sia molto bello. Eh, sì. Sulla spiaggia il mare ha lasciato le sue orecchie e nella sabbia ha scavato la scena di un delitto perfetto. I coltelli sono dei segni e i proiettili lacrime. È molto bella. Non l'ho capita, ma... È molto bella, ma non l'ho capita. Ma è molto bella. Ma è molto bella. Ma è molto bella. No, ma è molto bella. No, ma è molto bella.